Sta per iniziare il conto alla rovescia per lo spegnimento, dismissione programmata di alcune frequenze del digitale terrestre in uso attualmente alle emittenti private, privandole così dell'autonomia di operatori di rete. E così dal 4 al 9 novembre prossimo in applicazione della delibera Gcom 48014 Cons che applicando la legge statale 9 del 2014 prevede lo spegnimento di 12 canali televisivi in Puglia sui 18 complessivi dell'offerta digitale regionale, si procederà alla dismissione dei canali TV. Ciò deriva dai reclami dei paesi confinanti Croazia, Slovenia e Malta per le interferenze provocate da frequenze non coordinate in sede europea dunque considerate abusive benché siano state regolarmente pianificate dalla Gcom italiana e siano stati rilasciati diritti d'uso ventennali dal Ministero dello Sviluppo Economico con relativi e conseguenti ingenti investimenti economici da parte delle emittenti televisive locali per l'adeguamento tecnologico. Il danno è enorme, così si determinerà la chiusura di centinaia di emittenti locali in tutta Italia con la perdita di numerosi posti di lavoro, nonché del reale pluralismo dell'informazione. Anche la nostra emittente, dopo aver ricevuto un diritto d'uso ventennale ed aver proceduto all'adeguamento tecnologico per il passaggio a suo tempo dalla tecnica analogica a quella digitale dovrà suo malgrado adeguarsi alle disposizioni procedendo allo spegnimento programmato dei propri impianti di trasmissione del segnale, facendo del suo diritto d'uso ventennale solo un bel quadretto. Ciò però non significherà l'accessazione della nostra attività di informazione e di intrattenimento al servizio dei nostri affezionati telespettatori. Con un ulteriore nostro investimento economico e logistico continueremo infatti a trasmettere il nostro segnale su altra frequenza, sempre sull'LCN14. Pertanto, dal 4 al 9 novembre prossimi dovrete risintonizzare il vostro decoder o TV al fine di continuare a vedere le nostre trasmissioni sul canale 14. Per eventuali problemi tecnici potrete inviarci un'email a support.chiocciola.teleregione.com o chiamarcelo 0883 520.000. Nonostante tutto e tutti, la storia della regione continua.